oh che bello deve essere stato vivere nel far west andiamo a fare un giro in questo saloon ho saputo che qui c'è... ma quella è una vera diligenza oh una diligenza vera quasi quasi ci faccio un giro devo andare a cercare il quadro del grande cowboy cioè il cowboy più famoso del mondo eccolo lì, lui è il cowboy più forte del far west andiamo a vedere oh chissà se diventerò anche io bravo come lui a domare i cavalli aiuto, aiuto chi è? aiuto, aiuto, aiuto ma quella è una principessa devo andare a salvarla oh principessa stai tranquilla ti salverò io ti prego aiutami, aiutami stai tranquilla ci pensa Ernesto maldestro cowboy nessun ostacolo mi fermerà nessun pericolo mi spaventerà niente, nessuno nessun corvo mi spaventerà adesso però devo andare a salvare un'altra principessa nel castello grande lontano laggiù perché c'è un drago c'è un drago che sputa fuoco la devo salvare mi dispiace io devo andare perché lì c'è un drago che sputa fuoco e devo liberare la principessa e devo andare ok Grazie a tutti